Ciao, sono veramente contenta di essere ancora qui, di continuare dopo questa prima esperienza di un amichevole, è stato bello perché è stata la prima partita dopo tanti anni, è sempre un'emozione veramente forte ritornare in un campo da palla a volo, sono contenta, spero che continuando ad allenandoci si ottengano i risultati e si veda veramente gli sforzi che stiamo facendo. perché ci stiamo allenando tanto e continuiamo così a lavorare a casa, a lavorare tutte insieme e spero veramente in queste possibili qualificazioni a febbraio-marzo, speriamo bene per il futuro, sono veramente contenta comunque, grazie.